Buongiorno ragazzi, siamo appena tornati da un giro e vi registro subito l'intro fintanto che sono ancora su strada serrata perché vi faccio vedere una tirata di sacchi davvero davvero lunga dovrò fare un pochino di giochini con i montaggi per non farvi capire proprio la zona perché c'è un punto in cui inquadro un panorama e quindi farò un paio di tagli la ricerca è durata 5 minuti, è stato 5 minuti di inseguimento e siamo arrivati a un posto nuovo da Tartufo Scorzone è stato veramente divertente e veramente veramente bravo vi lascio il video Dove l'hai sentito? È distante Dove cazzo l'hai sentito? Andiamo a prenderlo così Andiamo a prenderlo così, ok Seguo Dimmi dove è andata? No 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 Dimmi dov'hai, ti sposto i rovi Dimmi dov'hai più o meno Dove cazzo hai venito Merda di là Dai, dai, pian pianino Facciamo pian pianino Guarda, segui me Segui me, guarda Vieni, vieni Forza Passa di qua Molto bene, dai Dove? Anche cazzo, cazzo Questo, c'è ancora Questo qui allora Sono bravo Questa è un po' di qua 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 Questa è un po' di qua